Alessia Azzarà Buonasera, siamo molto contenti di queste iniziative che stiamo appunto organizzando infatti per i prossimi mesi sono già in elenco non solo gli appuntamenti con l'autoemoteca ma anche eventi come il carnevale, la festa delle donne e altri eventi Questa sera approfittiamo proprio per organizzare questa tombolata di beneficenza dove la quota di partecipazione è di 10 euro e il ricavato sarà poi interamente devoluto all'Adspam e all'Ail e dopo aver fatto il giro pizza, quindi dopo aver mangiato e bevuto ci sarà proprio la tombolata, ogni cartella costerà un euro e sempre anche questo il ricavato sarà interamente devoluto alle due associazioni Siamo molto contenti di questa unione che c'è stata tra Adspam e Ail che sempre si accompagnano, che si sono accompagnate nell'anno precedente e che continueranno ad essere vicine Quindi questo presuppone che ci sarà una continuità? Assolutamente sì, sono due associazioni che vanno sempre di pari passo quindi continueremo a mantenerle vive anche qui a Melito Grazie e in bocca al lupo Grazie a voi, credi lupo